mamma che cult meno male che ce l'ha recondizionata fratello arrivo ciao ragazzi niente dal mare devo schizzare a orzi nuovi tanto voglio dire ci metto poco e per vedere il mio fratello giocare la prima partita della finale dei playoff e mentre guido per raggiungere il palazzetto di orzi nuovi voi beccatevi le previsioni per domenica previsioni per domenica 28 maggio al nord in lombardia al mattino tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni ma con molte nubi sparse anche compatte schiarite più ampie lungo l'adriatico al pomeriggio cieli regolarmente nuvolosi con addensamenti anche consistenti assolati a locali piogge sulle alpi alternati a maggiori schiarite su coste pianure sul resto d'italia al mattino soleggiato e stabile salvo innocui nubi sulle zone interne e sul basso Lazio al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo prevalentemente stabile con sole prevalenti sia sul tirreno che sull'adriatico ad eccezione di qualche addensamento locale sugli appennini temperature minime in calo e massime in aumento dai 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 in difesa adesso su su dai ok 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 recuperare palla 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 che è strassi partordi partordi mamma mia mamma dai che siamo in finale difendete scusate posso non vedere il mio fratello che gioca scusate non lo faccio vedere mio fratello gioca e speriamo che riesca ad andare in A2 ricordatevi che mentre io sono al palazzo Giorgimo a morire dal caldo su ComTV spendo sempre i suoi ciao 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 ciao